Musica Salve ragazzi Benvenuti in questa nuova live Ora fatemi modificare In me c'è Just Chatting Ci metto Rocket League Che andiamo a giocare lì Rocket League ok Ecco fatto Ok Un attimo Che sto messaggiando il mio amico Che ci sarà anche lui in live Questa è un attimo mamma tanta barbara pan 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 ciao si uno si così ti sentono va bene oi ci sei? ma è stato bello si allora va bene se ti sentono si si ok ma sai che anche io non ho 523 si 523 sbocciamo le schere spacchettamento io ne ho solo una poi mi compro tutto il resto vado avanti di livelli vai grazie rocket league ma veramente ok epico 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 cosa hai trovato? ma è successo qualcosa? non lo so ah si perchè sta a finire quindi ci hanno dato un extra di 500 ranterne va bene lo facessero con tutti gli eventi si ma fanno tutti schifo cioè l'unica cosa di 100 da comprare cos'è? oh cirro propulsore terra di siena bruciata tattico non è neanche male dai ma non so quanto userò e mi sto comprando la scia ah ma io l'ho finiti no che delusione la scia poi c'è il turba il turba non è molto bello è fastidioso ma io compro un po' tutto tanto e mi compro i livelli dai mi compro un livellino grazie ma si ma sboccia tutto no sono già tre li ho già scioppati tutti si sboccia vabbè dai mancano sette giorni una settimana prenderò tutto 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 intanto non c'è niente eh vabbè arrivo aspetta sto guardando quale esultanza mettere più bellino un attimo sta qui vai sghera rocket league fa dei regali per la prima volta incredibile la psionics ha fatto un regalo per l'ultima volta magari dare 500 crediti no eh no devi dare le lanterne infatti no eh 500 crediti no eh 500 crediti no che zio perché io c'ho il passo per rimanere più 2v2 non ti team no sono però un covo un cavo siamo sono ah eh ero partito per andare a prendere il bus visto che non partivo e mi sono fermato all'improvviso ma perché ma perché paratepica non era neanche in forza vabbè grazie ma rocket league è fatto così ah se mi avesse spin aspetta colpisci ecco anche il mio proprio top bravissimi Mario vabbè la prima partita quella dei bambini ci sei? un attimo pochi ho sistemato una cosa ho sistemato una cosa ci sono ci sono no è che stavano per fare gol tanto io faccio le provate sul muro ecco bello grazie non toccare oh marcello guarda che pinch mamma mia marcello marcello vai su mi ha lagato un pochino ok ora non mi laggo mi ha pure girato prendi oh dio guarda la parata no perché ha rimbalzato sul tetto l'avrei presa colpa del tetto questo è rocket league guarda se non rimbalzare sul tetto la prendevo tira ah eh si 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 proprio bello adesso si tira vabbè si sono addormentato grazie ora ragazzi il nostro youtuber lori xbox non si sa cosa sta facendo quindi è l'asso posto ciao a tutti ragazzi benvenuti con oddio sono in volo va bene che coppia strana della storia eh no caro il busto è mio era un fecchio l'ho fecchata perché ho fatto io ci andavo direttamente finiva lì no devo fare coglione ok io non mi sto mai non mi sto l'autogol bello eh no eh eh niente 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 no io tu che tiro abbiamo fatto quella roba il tiro casuale questo è stato andare in porta non ti dicono che i amici erano 200 uè che dritti eh buongiorno tanto c'era l'altro oh no ecco bravo ho rubato il busto a tutti bravo lori xbox sennò sarebbe stato gol si si sbilanciano yeah grazie fox prego grazie loritz prego prego tinky winky poopsie che pincero schifo oh ma che gol loritz fox stai che si mi hai fatto non l'ho visto ho fatto un tiro calcolato si ah proprio tantissimo vero si era veramente calcolato certo bello il kick oh incredibile l'ho fatto decente incredibile eh no ho perso il contratto oggi sono carichissimo perché mi sono svegliato pensando fosse domenica quindi ero carico poi dopo ho scoperto che era lunedì no oh è attraversa è attraversa che fortuna via ti robò ma fatti il tuo gol poi adri sano che raro la colpista mi ho distratto mai perché io sono boom ahia no stavo già scrivendo calcolato in chat si non è che solo con me fanno le parate belle scusi bello questo proprio no il calmato ora ah grazie calcolato vedi li ho confusi ah oh no vada sono andato però me l'hanno dancata bello tanto non fanno gol mi ho fatto a pinciarla in quel mani grazie vai no no mi è arrivato il bus eh scusa tira tira vai che la chiudiamo la chiudiamo no 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 mancano dieci secondi non prendiamo gol vai via la non prendere gol 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 vai che l'abbiamo vinta l'abbiamo vinta gg no gg dai ma sei stato il miglior player per 20 punti che schifo sempre il miglior player non è vero non lo sai mai non è vero io ho sentito parlare dal bagno tipo cosa? mi sento parlare come se fossi dal bagno come se fossi dal bagno? cioè in che senso? oh il controller dove lo devi mettere eh vero eh ricordati queste cose vai sì 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 ma tu mi hai copiato la cosa lì l'adesivo ora siamo tutti due oro eh team oro che adesivo? è quello oro anche lui è quello oro ah adesso no ma io c'ho c'ho i puntini ui c'è qualcuno in live? sì uno sì uno ma dopo poi alle tre qualcosa tre in quarto circa arrivano più persone penso sì meglio eh per domani c'è qualcosa mh boh aspetta sono sbagliato sono saltato giù dal muro mi ho confusi grazie aspetta che non ho boost gol non la paro ho sudato freddo vuoi rimanere pipì oh oh vuoi rimanere pipì oh oh babbo che si duro ha tirato sento sotto fila tirare l'aria ora faccio il mio bellissimo piccoffi stupefacente 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 no no sei infame sei infame animo del cavolo guarda no è stato quell'altro scrivi di nuovo calculeite ha scritto oh è bello sto guarda voglio vedere io ho davvero visto quello che ho appena visto calculeite xd lol no 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 ho cliccato un'altra coppa ok tranquillo ci sono io eh ma perché ho cliccato fuori dalla schermata di gioco quindi non schiacciavo ma non andavo via via il bus aia ma tanto sti qui hanno fatto una cavolata sono avanti a fanno gol bravo no pensavo la tocca no comment un comment bello il tiro no bella la parata bella la parata complimenti xd lol siamo qua tra due da mangiare vedi già tu che fai un kickoff decente tutto tutto eh ma sto migliorando eh sì come sei bagato no ok torotto 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 certo potrei pararla un po' eh mi è salito il pinga 400 appunto no ora 800 perché mi è salito il pinga ma questa è la psionics che vuole che ci pareggiano volevi mi è salito il po' eh stai scendendo il pinga va bene vai lorix fox no parlo no no gol il mio esploso ma non hai fatto gol ora ritornerò più forte che mai come lorix fox ciao è tornato più forte che mai un attimo un attimo grazie ma l'ho toccata la palla forse sì no comunque il nome di questa live è fantastico come l'hai chiamata divertiamo l'ignoranza no no che schifo bello sto piccolo bravo bravo su un pollo no mi ha rubato il busto vai bello lorix fox aspetta che vado sto sgommando un po' all'indietro ah sì fai tutte le provate bella questa provate il tiro è proprio grazie vieni qui vieni qui che gli distruggo bello guarda senza boost eh sì ma non fa una gol ti do una spinta no ma tu sei nador cioè c'è un non lo so come fai scusa cioè oggi 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 cioè tu dove eri sì ma io vedo te andare non pensavo ti è rimasto fermo bello vabbè ma è è arrivato di 20 ah lì c'è anche il busto mi ha fatto qua apposta è un dribbling vedi prende il busto dribbling dribbling stupe faccente fantastico incredibile non andare in mezzo magari bello e lo trolla così non fai gol bravo ah god seriamente no seriamente seriamente scusa ma noi quando abbiamo fatti sei gol ne ho fatti cinque io quando allora fatti non lisciare non lisciare niente diciamo sei cinque ecco detto detto fatto mia bo arriva il sesto gol il settimo per me il sesto no è il settimo per me io ho fatto sei gol mia ora faccio il tuo kickoff funziona ma io io l'ho visto da da uno che gli insegnavo cioè ho visto un video scritto dove faccia vedere come andrebbero fatto il kickoff solo che non sempre viene si ma si calma eh ah che parata eccola ti il punto basta bravo bravo guarda come l'ho stoppato guarda l'ho spuso violentemente più e lui lì che girava intorno alla palla va bene guarda guarda come hanno abbandonato com'è che abbiamo fatto sette otto gol otto gol io ne ho fatti sei si ma non stiamo bene oggi abbiamo la febbre perché non abbiamo fatto otto gol si abbiamo fatto otto gol non è da noi perché noi ne facciamo 20 ovviamente vai siamo contro un meme e un god god meme gol no se non l'avesse parata io mi inchino davanti a queste azioni che cos'era ho passato per l'avversario certo ci dobbiamo aiutare eh se non fanno fatica oh incredibile il suo primo tocco di palla si ma ce l'hanno ma tu non c'eri perché ti hanno esploso mamma mia appunto le ho trippellate questo è mia no non è scherzato è mia eh ho partito troppo male perché sei volato vai tira boom check check rush eh ah eh wow boom cosa è successo alla mia macchina è iniziato a girare ho visto lì dietro che cercavi di prendere eri lì dietro questo mi hanno preso colpe perché fece ah hai cercato oddio mi ha portato da ridere beh il kick off grazie non si è partito stop poi mentre bevi tra l'altro no non stavo bevendo ci prego dimmi che ci sei vai di ceiling mamma mia no non prenderemo gol lo sfondo marcellistico si ma la prima alla rocket league in giochi in cui tu devi colpire la palla non fare so tieni beh si è sua tieni beh io ci sono mamma mia che azione grazie oggi siamo c'è nessuno ma c'è qualcuno che non va oggi siamo troppo bravi si ma la prima l'abbiamo perso l'abbiamo vinta ah l'abbiamo vinta incredibile tre su tre non succedeva da ormai cinque mesi beh no da quando abbiamo incominciato a giocare insieme bello dai no ci ho provato oh ma tanto rava era traverso eh ma potevo fare da portacce no vabbè ma metti in mezzo fai qualcosa per te azione bella fantastica giocata viala non ho boost quindi non lo posso attendere bravo l'orex fox ha partito è partito è partito la regala al compagno giusto per avere il gol no questo non era gol perché riuscivo a prenderla comunque ora mi a me non serve rubare gol anch'io li riesco a fare solo che voglio provare a fare il traiardone però non sempre ce la fa e rubare no si perché si brava a rubare si brava a rubare tu non hai visto cazzo di iniziazione riescono a rinviarlo l'orex fox sulla fascia si accentra prova mettere un tiro sul palo più o meno non era anche palo però vabbè mamma mia l'orex fox viene scartato da bayern numero 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 poi l'orex fox la riprende incredibile azione l'orex fox prova a concluderla ce la può fare tira storia nessuna boost incredibile l'orex fox è l'unico che ha boost in questa partita ora no spona io non sono boost io uno di boost sono ricco un rich si un po' un po' un po' un po' ora sbaglio appunto bel passaggio ah anche l'apparazzo dell'avversario è stato stop no straordinari gol mi si capisce di che sta succedendo va che prendo la pala faccio gol il finale è stato un po' strano 100 crediti e sale di platino 2 mamma mia stiamo incominciando a salire oggi si arriva a grand champion facciamo diamante c'è grand champion certo grand champion ultimate noob le turtle siamo contro lol expeziation si va bene tu non hai visto è così che si fanno i passaggi vedi grazie mamma mia 107 km si inizia col botto è già in vantaggio dopo nemmeno 15 secondi la rexbox aumenta si aumenta vabbè avanza aumenta evviva ecco arriva il liscio aspetta che sono un volato nella porta bello il tiro arriva quello che ci prova ma non è capace come me in questo momento cosa appena e si chiama confondere confondere proprio così con questa pronuncia francese anche se non è vero però per me è francese signori quale è in mezzo mi sa malissimo però vabbè araba tua se la colpivo andava in gol non abbiamo visto nessuno ha visto niente che sta succedendo fai ceiling shot triple touching no ero pure rimbalzato sul muro in qualche modo strano adesso ci fa gol lo prendo lo so per prendere cioè se rimbalzavo di più sul muro e andavo contro la palla era da voltacce non so si si certo double touch eh si perché no come ha fatto ad arrivare prima sul muro prendila ho risposto qualcuno deja vu scusa eh ho entrato uno yellow mi aveva invitato ora un hackers hello trade hello trade boh io posso però dipende no non disturbarci stupido noob perché la gente ma è uscito ancora noi stiamo giocando che cavolo io scrivo ehm cosa scrivo nope io ho nope nope ok puoi anche uscire arrivederci effettivamente è uscito signore certo ah ma perché mi spinge quello che adesso vado a far spogliare adesso vieni vieni oh no perché non esploso quello non esplodo io ti piace quando ti spingono gli altri non ti piace quando ti spingono e non spingerà anche te stupido ecco abbiamo preso gol bravo focchi che penso solo a spingere grande lo esplode lo esplode lo esplode no bravo buongiorno che ho diventato Ivan Bornex se ho detto bene il tuo nome sì no la smettete di morici oh non possiamo perdere ovviamente qua tre o quattro di fila non possiamo perdere questa appunto ho toccata sono forte sì vabbè sì ma sì qui c'hanno fortuna tieni 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 ci sei ci sei ci sono che esplodo così non ci sei più guarda ok ci è andato un po' e mo c'è l'altro ancora volete morire cioè perché dovete romperle scatole dei giocatori diranno questi ok ora vinciamo 1 minuto 1 minuto 4 gol ci trovi se vuoi parlare su discord nel mio server che trovi nelle info 1 minuto e 41 per 4 gol se può fa sì se no se non avessi boost allora fochi da ora giochiamo aggressivi è excuse però se fai sti cross qui senza niente mi ha lagato un po' il gioco bravo che l'hai toccata uno stonx fuori sì c'hanno non è possibile che abbiano tutto sto boost è impressionante tira quanto boost c'hanno? purtroppo devo ancora farlo il comando comunque lo trovi nell'info box proprio nell'info del canale c'hanno boost infinito oh no mentre per mandare la richiesta di amicizia fai eh basta punto esclamativo steam così ah basta ma sanno solo rompere questi è vero che spingono basta boom la parata incredibile perdono 5 a 1 abbiamo perso di vinto 7 a 1 tipo no 5 no no non la fare cadere otteniamo un po' qui no no ottima giocata è corto avete solo spinto avete fatto 4 gol solo ok se vuoi parlare con noi siamo nel canale vocale rocket league 1 ma dove stai parlando sento il il le cose come scala il certo adesso ti scendo di visione no certo ovviamente io no scioppiamo un po' salve buonasera buonasera vuoi su che modalità cioè playstation o pc io pc lui playstation no lui xbox ah vabbè il tuo nick qual è ti mando l'ind di rocket ok ok beh ma puoi anche entrare cioè mando alla fox allora xbox poi entri e io ti accetto come a me si 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 tranquillo tranquillo più che altro che io sono su pc perciò guardo un attimo su l'ind di rocket così poi gli mando la richiesta su steam mi viene più veloce io comunque il mio nick è l'orix fox con la l e la f maiuscola e l'hashtag i numerini dopo l'hashtag 5548 5548 ok ottimo potente non trovate sì beh amo questo gioco l'orix fox tutto attaccato l'orix fox tutto attaccato eh l'orix fox tutto attaccato oh ho capito ho capito solamente l'ori perciò dicevo un attimo altri capiscono l'ori con la s quindi 5548 giusto ok vediamo speriamo oh yeah bisogna profilo ok te lo dovrei avere inviata adesso trovo ad accettare mi senti sì ti sento ti senti ah no che prima c'è oh finalmente qualcuno che usa delle macchine diverse vabbè aspetta se mai credete che cos'hai la di canto un po' giusto la mia di quali in mezzo questo si ma aspetta la mia la tua alicante la mia la mia la ciclone ok però sono simili facciano vabbè son basso ma aspetta al massimo metto la nissan dai cambia anch'io se non so posso mettere la donna la nissan ah per me guarda va bene tutte le macchine tranne la dominus perché non sono capace a usare vabbè mi tengo la la ciclone più comoda vai fate pure partire tan 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 twitch prime ah grazie è brutto giochi da tastiera e viva ho joystick ecco iniziamo già bene con il lab ottimo vabbè penso io che l'aggo ogni volta che volta mi parte il vabbè ben fatto perché volta me parte il 900 di ping così alla casa guarda io ieri stavo giocando con 900 e dicevo ma che cazzo tipo la cala era una base l'ho toccata io ero invece dalla zona blu a caso però vabbè sì ma io mi chiedo quando c'è l'aggo che io vengo tra cioè che vieni telestrasportato ovunque cosa vedono cosa vedono quegli altri no no secondo me loro vedono la tua posizione reale nooo mi ha esplosono ci siamo esplosi vicini io sto arrivato lì che faceva verticale a caso calcolato calcolato gli sto già odiando che fanno spam si è come l'orex foc ecco godo ci esplodo io stavolta no come cavolo ha fatto l'intendo vabbè vuoi più o meno che rank lo siete allora io il massimo che sono arrivato è stato diamante poi sono sceso a platino io sono arrivato a platino qualcosa poi sono sceso a oro io invece sono rimasto a oro sei arrivato a no io sono il massimo che ho fatto oro è argento però vabbè sono dettagli vabbè meglio è meglio così troviamo quelli un po' più in basso ma no perché altro perché io ho avuto anche dei problemi con il mio pc e non ne ho dovuto farlo riportare ad aggiustare e per tipo un paio di mesi non ho potuto giocarci io ho problemi con i random invece player che incontro sono tutti scarsi nella mia squadra grazie non è non quelli non è non vuoi non va aspetta la tua squadra ti stai dicendo che noi siamo scarsi quelli che non sono nel gruppo i random? no volevo rubarti il gol i random? è odioso che ho giocato i random perché ormai trovi solo quei mid che si conoscono così quindi quando giochi con i random non riesci proprio a organizzarti qualche volta incontri quello forte che crasha quello scarso che non gioca però ovvio ecco infatti non dovevo volare prendila meno male ben tiro proprio powershot powershot proprio portami via potenza 100 km orario è proprio un bel powershot si si dai bastardo no 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 ah perché mi sta lagando ecco tu hai detto guarda 300 di pink vedo un po' lei ha 300 di pink no no guarda 255 così sono un'ottima indipesa con poco boost grazie scusa oh ok si bello aspetta eh buongiorno eh rip eh vabbè passo te l'ho passato eh non so se bravo guarda quello che ho fatto proprio quello vabbè certo ho fatto papapara papapara ho calcolato ho calcolato ma quant'è che abbiamo fatto 4 gol ma poi io non mi accorgo oggi ma li hai fatti due te e due io in realtà però vabbè sì ma quando parli non ti accorgi no non è vero sì no io non l'ho fatto no allora lì però tu non l'hai fatto un mondo delle favole allora è accettabile ma io oggi pensavo fosse domenica quindi eh sì certo si è andata a scuola no davvero mi sono svegliato ero proprio rilassato ho detto ah che bello oggi è domenica tranquillo ho l'autobus mamma cosa mi urli contro che c'è l'autobus che sta partendo io oggi è domenica non mi serve io mi stavo per alzare andare a fare colazione poi ho detto oggi forse è lunedì ma forse senza che sto un po' eh grazie bella spinta abbandonata poveretti calcolato ve l'ho calcolato è proprio quelli che dicevano calcolato ma chi è la tua? quale? Twitch Prime la tua ah la mia è la Nemezit che la puoi prendere con Twitch Prime ah sì che ho visto un video se hai Amazon Prime e Twitch credo che la puoi prendere cioè te la danno lo colleghi al tuo sì 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 se fai il collegamento con Amazon Prime con Twitch Prime hai un abbonamento che puoi darlo gratis a chi vuoi tu e poi hai anche delle ricompense aspetta ma Fox eh appunto l'abbiamo già incontrato noi due l'abbiamo incontrato una volta quelli che ci avevano asfaltato no li avevamo asfaltati noi secondo me gli ho incontrato un 420 team nelle 2 V2 bella grazie tranquilli fate pure come se fosse ma aspetta tu hai tu hai no bello il pinci indietro è la domanda che si pongono ok mia cosa è sta roba arrivo subito arrivo subito in questa macchina ragazzi colpisci che è sta roba no cioè se facevi gol con quel se facevi gol con quel tiro no ma c'è uno con il boost che no con il rumore che fa da fastidio del motore quale uno di loro non so quale hanno lasciato tutti quello ma ripartiamo qui così che poi l'aprendiamo evviva scusa allora mia eh sì scherzavo mia lo stesso bello gran drill c'è ma è nella mischia ma più io devo esplodere fox ci sei certo che ci sono non ti sentivo oh mia gg rubo no no fai schifo fai schifo volevo rubarla invece l'ho parata fai schifo lo so fai schifo ho rubato palla allontanata anche come in canestro come in canestro ogni volta così guarda che schifoso schifo non devi essere bampato dove sei ah no io no vieni qui ah ok ti sei fatto perdonare comunque la parà però ora saremo 2 a 0 non 1 a 0 è schifo se la prendiamo per colpa tua mi arrabbio parà tu 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 fa schifo ma io voglio girare eravamo in due fermi io stavo parlando come mamma eh vabbè ma io facevo era faceva apposta no che lui mi ha rubato il gol eh l'infame se no saremo 2 a 1 2 a 0 no che roti in culo ti ho tirato tutto l'ariz fox eh volevo rubarselo e non pararmelo cioè non parare cattivo noi denunzio beh eh non a parte se non ce l'hai giusto tu 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 fox fox prova a rubarmi anche quello guarda eh guarda guarda come era partito col bus dietro perché io mi preparo a esultare no tu ti prepari a rubare ma con lì è il futuro rubare bolla gli altri sì grazie mettiamola al centro è più interessante la palla che guardare davanti chi hai però ma lo so ma perché intanto mi mi piace ok bello grazie bel rimpallo proprio bellissimo sul muro top cioè se la lasciavi andare andava in porta quindi yeah autogol ma perché non ho capito bravo cos'è questa forma che ho evviva vedi te l'ho detto che faceva gol no sai perché lui qualche volta li partono e scambia gli avversari per compagni quindi mi parte un po' di fare passaggi mi occupate ma c'è un po' di differenza scusate gli avversari sono già noi siamo negri e no no mi dissocio mi dissocio no vogliamo bene i nostri amici bannatelo dal a vita dal sito ora ti bannano io ti avevo colpito però una volta di lago ma spostato qualche volta col pc bello qualche volta col pc qualche volta colpisci la palla odio ecco infatti così proprio odio quello lì nyeeeh quel motorino mamma mia chi è che ha il motorino? uno di loro ogni tanto mi passa di fianco ma io non ho il motorino vai dai ma sto giallo ah ma dici dal vero tira tira perché io non ce l'ho è un po' ma benissimo ok io sto in difesa fisso ora però farò gg buffon va dietro mi sto scaldando le ruote devo passata ilberto quanti anni hai? e me la dancata io ho 28 28 io ti vedi un attacco però va bene ma io sono quello che parte in contropiede tipo catenaccio così vabbè ci pensa l'orex box a fare go gg no io ne ho 19 ma che pedo che voi quante ne avete? noi ne siamo piccolini noi ne abbiamo 8 ah certo non c'è una partita non abbiamo 8 più iva si 8 più iva ottimo dire io ne ho 5 lui è david booney belli capelli ancora si bene l'ho scritto ancora una partita è normale ora qui terno mia tanto la vinciamo tanto quitta hanno subito la vinciamo 10 a 1 ma prima l'abbiamo vinta no 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 si certo allora quittate hai segnato te scusami ah me erano quelli di prima proprio ah wow pensavo fosse la partita prima alzheimer portami mi dice che non lada io live please xd lol live please xd lol mia eh ho visto era tutto un fake per non farmi esplodere ora parto col 0 di boost vedi vedi calcoletti d'ora si fanno autogol no scherzavo grazie qui prego poi arriva loris fox che fa sta roba qui è un tocco da maestro si si chiama confondere confondere si è la sua tecnica eh si è la sua tecnica confondere si chiama fai cosa calma non si confonde non ho finto aspetta mia mia non gira non gira la macchina le ruote rotte per questo dai no scherzavo ho visto a farla ho tra di boost sono importante così mi ha scherzavo dai la mia amo mia no no l'ho fatto io l'ho fatta io l'ho fatto io ho vinto vai con quello che ti li bravo proprio così eh ci ho provato sì ma lui è un crone il tirare fuori mi hai sfidato l'ha detto vai tira fuori non hai detto parare hai detto tira se io le misso non posso tirare fuori e gg vabbè quando rubicolio non li tiri fuori incredibile dribbling azione non mi ha dribbling messi no mia scherza vedi me l'ha passata ma perché non mi ha dato l'asco no 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 l'ha toccato 200 volte l'altro avversario scusa quando tu la tocchi a centrocampo poi gli avversari si fanno 8 gol perché ti dà gol cioè non fa una piega ma anche nella vita reale allora scusami ma no nella vita reale ti dà un altro gol ma scusa ma se all'inizio partita il nemico si fa 8 gol senza che tu la tocchi di chi hai gol dobbiamo provarci in realtà della squadra no ti dice perché a me una volta è successo grazie ti dice squadra blu o arancione dipende interessante noi siamo la squadra boh scritta tra l'altro male boh però boh bho boh perché lei è scritta così boh ma perché c'aveva 90 punti dopo che hai fatto il gol mi hai dato i 176 boh vedo un po' lei scusami hai fatto una parata due tiri sono già 75 di parata 10 no la parata era normale allora 50 allora fai scherzo cioè 100 punti gratis grazie ma no dipende anche poi allontanamento di palla rovesciata che a questi punti qua ma vaffan... anche alcune cose che non ti dice mi sembra no parolacce siamo su twitch no hanno bannato alcune cose si hanno bannato hanno bannato il masseo tanto abbiamo vinto ok bravo proprio così ecco sì ma com'è che esplodo solo io sta partita eh hanno mirato te eh 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 mirano i più forti cosa... quel tiro ma te lo fanno ogni guarda possiamo anche giocare alla casa guarda grazie anche io no mi sto giocando male non farei mai gol mi trasformo no dai questo qua mi ha bloccato ma il pezzo di me dai dai bravo che parato il mio power shutter no spesso idea sono offeso com'è che sono arrivato a seconda vabbè calculated a caldo ma perché io sono arrivato a seconda di due punti ma vaffan brodo di un primo tocco sono arrivato a seconda di un primo tocco ma io non ho fatto niente cioè tre tiri una parata e 202 punti dai su forbina in tempo sì ma quando fa il gol sembra quella musichetta tipo nei video lì che c'è no sono ienas mia ancora c'è l'hote in cinese non ho capito cosa ha fatto gli hanno rubato il gol una bella retromarcia guarda come li volevano rubare il gol infameli c'è un warx boxing nella loro squadra ma si chiama tutti vlamoc vlamoc poi c'è lobster mobster che non è ma cosa mi rubi il busto pezzo di un bufu ma perché dovete fare double call mit scusate noi siamo pro quindi noi facciamo noi abbiamo il tiro abbiamo il tiro boh alla Oli e Benji sì sì la catapulta tra lì dei gemelli come cavolo si chiamano gemelli coniglio fanno la faccia da coniglio quella è la catapulta vabbè che se ne prego frutto buffo bravo bravo sono un 2000 quindi non devo sapere niente di Oli e Benji io so di Inazuma Eleven va bene è la tutta cosa dai più o meno tiri da centrocampo e fai gol aspetta aspetta ora faccio il tornado di fuoco no scherzato eccolo l'ha fatto loro ora faccio il tornado di fuoco quando è un'occasione cioè proprio urlo tornado di fuoco ma appena vai in aria a volo ma grazie prego tornato grazie grazie no no grazie era una finta li ho confusi guarda ora come sono confusi ora si colpiscono da soli sto lagando io non vorrei dire incredibile non l'ago io per una volta no no non l'ho deviata ma veramente sì ma come fai l'analogia non ho visto niente guarda sto lagando sì ma ne ho solo 100 mia sì ma sti qui sono dei ruba busta hanno il busto infinito com'è che c'è il busto infinito ah che via segnali aspetta che mi fermo un secondo di segnali io non ho busta vaffancuore sai che mi hanno fatto bollo invece mamma mia signori che carattere ok ho segnalato lobster monster per condotta antisportiva ah pensavo come avessi segnalato anche a me sono proprio uno di quei morti pirla cosa sto facendo meriti di essere segnalato fanno anche tu segnali compagni di squadra voleva esplodere grazie per la scuola tanto ormai stiamo perdendo la parola 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 bravi passaggio no mi è spaventata aveva fatto il tornado di fuoco è riuscita a parlare con la mano di diamante aiuto ma questi sanno solo spingere nella vita aspetta che ora tocca a me la gara eh quindi no no ci sono anche io tranquillo ok ci è sistemato ok sono da solo mano tornado di fuoco wow che tornado di fuoco guardate la spazza riesce a fermare il tornado di fuoco con la barriera di roccia tornado di fuoco di nuovo ce la possiamo fare a fare un gol tornato aruba boost no tu tu ora mi trasformi su tolsaian eccola te ora perdiamo no no pezzo di tornado di fuoco tornado di fuoco grazie grazie non è vero no perché non potevi tirare no c'era il palo in mezzo cosa fai c'era il palo in mezzo ma ora gioco con l'altra squadra io ragazzo di 19 anni da 2 viene ebulizzato su rocket league da due ragazzini di 13 anni beh non sono la loro porta mamma mia dai ora li spacchiamo tutti li spacchiamo grazie no la parerò con la mano di fuoco eh cazzavo bel tiro bel tiro bel tiro bel tiro no perché dobbiamo abbandonare ecco allora abbandono con il dito di fuoco perfetto ma ora tu fai l'università fai le cose le superiori facciamo con le superiori superioli superioli dove vai alle superiori questo è uno stalker a scuola sì ma quale tecnico grafico tecnico ok ma prima di tutto di dove sei sud o nord di genova aiuto col pesto il pesto a genovese incredibile ma questo ha ma perché tu hai la che ragina hai oh se si sa usare fortissima dicono sì come no no dicono che la tua hitbox si sa usare fortissima però nessuno la usa già il volo è stato bellissimo non avevo busto non è colpa mia grazie prego ma seriamente mi ha usato quella lì io appena l'ho vista detto questa non la uso no no vedi ti bullizzano anche loro perché hanno visto quella macchina no ma è utilizzabile solo che bisogna saperla usare perché è un po' diverso dalle altre ok siamo alla squadra dilaganti uno che non l'ha poi altri due che laggiano a scatti vuoi fare palla volo su rocket league con la con la scarab che fa la palla tornato di fuoco neanche per idea vedi che ha funzionato il mio tornato di fuoco guarda baylink e tornato di fuoco vedi powershot a 76 km orari imprendibile estremamente attuale impressionante la toglie dall'avversario poi fanno gole però oddio che bello la voglio anch'io si ma devi scioppare allora vaffanbroder aspetta era il dragone aspetta come fa ad avere il dragone cinese ha fatto quello che sapevo hacker ma segnalato però qual è il tuo che ha fatto gol e basta vedere quello che sapevo ah se non è stato brutto al punto et stai per farti il tuo gol sai no era un pincio parata di diamante parata di diamante grazie vedi anche le altre me lo dicono grazie no ho parata io miss di 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 nessuno aspetta quella faccia un'altra parata di diamante incredibile colpo da maestro parata di diamante ah no vai sono pronto per una parata di diamante ma no hai mai destabilizzato in volo hai preso sembra che la falla però vada sì ma la tua macchina è solo fatta per rubare i busti che lo so non lo so volevo fare un pin è gol parata di diamante non ci arriva parata di sono stupidi parata di parata di diamante ma che parata gol no ma non ci posso credere ok vai 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 segnaliamolo come si chiama come si chiama eh brutale brutale a quella skin ok brutal et brutale segnala imbroglio ok fatto ma non lo segnalo anche io così ma non è che poi bandano noi oh magari grazie era in porta però prego tiro di diamante tiro di niente parata di gol gol di et parata signori proprio se c'era un pochino più sotto domani dai come la dovevo parare scusso non eravate in difesa chi ha più punti ora io chi ha più manda ora io chi ha più grande io eh non è vero magari io c'ho 25 anni dalla voce no magari non distorzio di voce ho un modificatore di voce integrata nelle corde esistono eh esistono eh sì io sono in terza sto facendo un pifero in sta partita io ah beh vedi io che mi sono le palle quindi tu sei la palla almeno vuoi dire di esserlo quando indovina quanti anni abbiamo io e lorix fox l'hai già detto non è vero ho detto 13 anni non è vero parata di diamante seri di te mi viene da ridare anche a me è reciproca come cross di diamante vai mi sono scherzato contro un muro no dai se lo puoi gol della monetizzazione prova a pararla di diamante ma basta abbandonare io non abbandono vabbè allora io mi metto a girare prima di iniziare Fox è fatti i compiti mi sta lagando un po' perché quando giro mi lagga tutto e va a scatti aspettaci qualcosa che non va qualcuno mi dica stop stop mamma mia cosa hai fatto stavo scegliendo le macchine perché non puoi fare un predefinito casuale che comandare si esce una macchina tipo ma è mai in allenamento si è rotto rocket league in allenamento va da scatti ma gg riesco pure a fare gol ok ora non c'è più rotto allora adesso ma c'era di chi era la voce che diceva hai fatto i compiti sarà sotto dell'amante io alle 5 c'ho io alle 5 avere tennis quindi io alle 5 alle 6.40 andare via eh scusa non ho capito io alle 5 avere tennis eh bello questo è il primo predefinito casuale alle 6.40 andare via perché io vado a piedi anche se è 45 guarda come sono tamarro però c'è il perco che non ha cambiato la macchina dai eh vabbè ma la mia macchina è già bella di tua è vero lui fa anguscia così già perciò non c'è bisogno che la cambia no ma è bellissima vediamo la vostra voglio vedere quella di lolex fox dov'è la tua oddio ma quanto è brutta è la modalità arancione è la mia dove sei guarda dietro è bruttissimo perché sono partito da solo vabbè ehm ok guarda 50 non ho preso parata so per dire parata di diamante pallonata di non è vero ma le ruote c'hanno l'itbox no ok magari con gli spuntoni andavo in tiro ho gli spuntoni vieni qua ti buco le ruote sarebbe vero poter bucare le ruote agli avversari care solo quello tutto io tanto che mi ha dato una volta fortissima io indovino un po un certo di nome lorix fox noto per essere noto per essere scarsissimo su rocket league il problema è che non mi ha tornato di fuoco ma dove che è fuori tornato di fuoco ma dove tornato di fuoco ma basta hai rotto tornato di fuoco tornato di fuoco vabbè vabbè è un bel tornato ho girato uno fox prima mi avevi detto che il titolo era il titolo della live credo sia molto aggettato tornato di fuoco sì sì quando lo prenderemo mai gol perché in porta c'è mark evans con la sua mano mano di luce mano di luce vedi vedi sparata proprio la sua mano di luce chi è fai io ah no niente tornato di fuoco hai rotto gli zepe di bibidi di zepe di bibidi scusa non ho capito di zibi di bibidi il grosso quadro è stato di iscrivere mi dispiace non mi dispiace non mi dispiace infatti un po' è a pari tuoi oh ma non sono primi incredibile miracolo perché siamo ancora pari ecco perché siamo forti noi vedi azioni azioni infuocata azioni infuocata aspetta ora vado in porto e faccio la mia bellissima parata mi giro bene mi giro no parata di diamante non mi hanno voluto fare la mia parata ora li punisco non stavo andando in porto guarda che guarda che ora ti esplodo basta vieni qui ma perché me l'hai alzata a me a me a me perché io non ho pensato prima di agire agire un po' di busti in più no eh non potete usarlo agire guarda la parata per favore guarda eeeh per fare i funghi prima di agire no non ti ho visto proprio non lo busto no sto per fare col con gli avversari ho spinto contro la palla era il mio tornado extra super infuocato ah beh allora vabbè eh sì quando c'è Spielberg li ho confuti peung 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 bel passaggio va ingheribile parata no l'ho parata oh sì ma di solito bisognerebbe farlo quando fai un bel gol eh ora la parlo mia perché la devi toccare a me stupido la fai eh andava la risposta nel caso dai quello che la tiri ho sbagliato ah sì ma se mi lanciate via allora non mi servo ecco ruba il busto a tutti la rimetto in mezzo vedi oppure anche parata però va bene non mi è la data l'ho parata però mia ma raga perché la devi toccare ma perché la c'era lui va bene c'era lui era un passaggio voglio fare il tornato di fuoco ma non lo sei capace a fare lo sbagli ho fatto un gol prima è come il trampolino in azzurro ma che si è anche tappati a farlo eh sì godo 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 come un riccio 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 godo non prenderemo gol raga siamo 1 a 0 sotto ma lo so 2 a 0 vorrei dire sei un fortissimo da te ora ci concentriamo allora ora facciamo una bella seduta di yoga per concentrare e incanalizzare no stavolta mettiamo le macchine tutte e tre random e non così ok ok metto un nuovo predefinito metto random non forse ok ok faccio un nuovo predefinito perché questo cioè è fantastico è bruttissima è bruttissima l'elefante è bruttissimo è bellissimo no si è bellissima è bellissima è bellissima la mia è bellissima sono felicissimo è bellissimo oddio raga mica la sicara gt ma c'è una mucca sopra ma la pallina con l'unicorno c'è c'è con il cono la sicara è più bianca qui c'è la bandiera della razor con queste tre macchine vinciamo oddio è vero ma io c'ho i brillantini ma raga la mia la mia si illumina cioè è il suo suo recente la mia gigante peserà tre kg e mezzo madonna che lenta che è però dicono che sia facile da usare proprio perché è grande io non lo uso mai perché mi dà pastino almeno così non misi la palla quanto è ignorante usare la scarpa così ora ti faccio un aereo dribbling la voltaccia aereo dribbling ceiling tu 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 esplosione tu 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 io sento parlare qualcuno però tornado di fuoco mi piace la scara adesso uso questo tu hai un'auto enorme rispetto alla ma devi pure scriverlo piuttosto in questa partita voglio fare un aereo un aereo un aereo un aereo 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 un aereo dribbling quello è il tuo aereo il dribbling potevamo fare una sorta di pinch si per quello ci faceva una volta salve salve dunque 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 l'ho toccata si però è stato più casino che no connessione no eh ok a posto ma io c'ho una bandierina di cosa boh io non ci leggo ma il problema è che è sempre in movimento quindi noi adesso faccio la tartola la prima tartola con questa perché non me la da mai la tartola tanto sono tutti gli spettatori eh eh mio guarda no avevo toccato come vuole che non pare il gos stupido guarda guarda tu però io l'ho portata io mi hanno già bello eccomi è mia madre mi rompe le scatole già amato capisco io ho fatto il tornando di fuoco ma non è vero lei che è scritto ma non è vero l'ho parata io del giro il giro grazie guarda che giornata di fuoco e abbandonano saluto tutti gli spettatori intanto c'è scritto psionic sulla mia bandierina stiamo vincendo perché sulla mia bandierina c'è scritto psionic quindi sono felici che non perché nessuno la usa eh non perché sono ma lì ti togli piccolo vieni qua ma stato vieni qua ma a chi stai difendo a Philberto ah ok non so come si va a prova a Philberto no 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 eh no 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 ma no dai ce la posso fare la formare al gollo con questa no 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 e venire si chi è vero so bello proprio mi hai beccato e qui vieni qui e qui vieni qui perchè sto dicendo vieni qui continuamente non lo so però sono arrabbiato basta dai tu sei arrabbiato così a fase si ok dici nooo ah faccio ball diamante advancement è bloccato progressione naturale ok sono secondo a bilancio o il basco la mia verde foresta cioè ragazzi ma perchè sono perchè sono divisione giù quando vinco io non ora cambia ancora io usciamo con un non è vero cosa stai mentendo ok garage ma questa non ho mai usato garage non lo so se ti sta in realtà no che schifo la dominus è bellissima la dominus mi fa schifo ma raga non ho cambiato macchina praticamente ma sempre quella è bellissimo il pesciolino io ho il granchio stupido poi di quel colore i cuori fanno proprio schifo io un albero di natale sono gentile sono regali guarda io non mi spiego no è la mia mappa ma da dietro c'ha le marmitte rettangolari broia cioè c'è la mia mappa questo lo diciamo guarda sono proprio natale a portare i regali io c'ho la bandiera della spagna praticamente no che schifo ho il busto a cuore io ho il busto a cuore io io c'ho quello di io c'ho quello di io c'ho quello di come si chiama io è della stranger things ah io è quello della sdommata io c'ho le ruote di et bella il drift bello io voglio vedere voglio vedere l'esplosione del gol io anche io bel passaggio bravo ma io non c'ho niente di che nelle esplosioni quindi cioè ma bella fa gol scusa si ma non farei mai gol infatti allora fa gol bella la parata proprio no io ho fatto autogol è diverso ringrazio tutti quelli che sono che è entrato qualcuno boh guarda guarda insieme bravissimi no io non ci vado basta mi rifiuto mi rifiuto con la dominus non ci vado io mi rifiuto mi rifiuto mi rifiuto mi rifiuto allora godo come un riccio appena nato mi ha polata di diamante no no sto la donna sto la donna sto la donna ma tanto c'è la dominus quindi infatti faccio schifo in realtà ma c'è già schifo prima non scherzato non scherzato sta scherzando no che vale va sta scherzando godo ma perché stiamo giocando in modo ignorante ma non sono neanche primate questi qui giocano coi passaggi ma com'è eh figa è fatturato rocket league mi sta mentendo ti togli eh noi siamo primate che stiamo parlando e non giochiamo di squadra proprio ma perché cos'è che giocare di squadra scusa non è fare dei team appunto cose a caso a caso grazie tipo questo prego letty go grazie letty go la 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 ma perché cazzo ma è speso tanto lo scaccio la domina siete due genii siamo a depro non mi piace questa macchina facciamo schifo con queste macchine chi è che non vuole abbondare io perché vieni qui che meriti di essere purgato ecco bravo ok ora cambio questa macchina subito piuttosto meglio la scarab vediamo cosa esce ho trovato dei waffle e un'esclusione ma dai ma questa no dai la uso sempre io allora andiamo in garage è uguale se mi esce la stessa macchina mi arrabbio no ma ragazzi da arancione a blu non mi cambia niente niente proprio niente no raga no io la cambio appunto questa è molto meglio ma la mia macchina ha le ali questa è molto meglio però c'è il turbo che fa da fastidio però vabbè raga ma siamo siamo tutte delle macchine bassine tutte simili siamo giocatori soprattutto la mia è bassissima no è altissima anzi guarda ma è qualcuno che ti vada tipo io non io io vado io no vado io no ma io quando accelero mi si aprono le ali che bello bellissimo no questo turbo da un fastidio enorme no da un fastidio enorme è fortissima la mia sono fortissimo sono fortissi sono fortissimo con la mia ah ma questa non è la nostra porta è la nostra porta mi sa che ho sbagliato qualcosa sono fortissima in questa macchina da oggi in poi uso la scaraba io non vorrei dirvi che bustoio perché mi fa schifo dai ok allora puoi anche non dirti il mio fa schifo c'ha dei fiori e fa un rumore che sembra non lo so non ho scritto ma io ho quello là dove ci sono i puntanti rossi e blu cioè io c'ho quello di Voltron ah i quadrati quello di Beat Saber io c'ho quello di Voltron vabbè però è bello io sono il salvatore dei cieli la parerò non è così male dai forza cosa succede? io mi trovo bene questa macchina io con questa macchina mi trovo bene ma vaffanculo forza andiamo vai vai forza andiamo vai dove? guardate voi ma sì però questa roba qui non posso mica fare il dribbling come faccio? ma io in che squadra siamo? ah ma siamo nei blu noi no sei un genio perché io ho la macchina di un colore che non mi sembra blu cioè non non lo ricollego al blu c'è dal tono ho capito quella quello lì del ringraziamento della season non lo so ma fa schifo lo marrone per tutte e due perché devi venirmi addosso che era mi hanno fatto niente no è stato l'ora è stato l'ora è lori non sempre colpa di lori guarda te è vero però ma cosa succede? ah ma mi hai bloccato lui sì ma grazie ma mi spingi sempre ma va oh fia ma questo qua spinge basta adesso lo esplodo adesso lo esplodo adesso lo esplodo adesso lo esplodo dov'è? un attimo che la paro sono io esplodo cosa fai? come è che volevi esplodere? guarda mio eh guardate ah ma lui non è in squadra con me è vero ma io sono un idiota io sono nei blu devo capirlo fail io pensavo la parasse infatti vai è tutto in retromarca dai che non ho busto scusa mi sto vagando boom oh ma tu sei quello che come è il busto degli ispi è gol maledetto stronzo stavo per bampare allora con la potenza di mille orrende grazie prendi bravi no ma te non hai visto cosa ho fatto io ho dannato il box bravi hai fatto bene questo busto mi dava un fastidio mamma mia marcielo marcielo what is it what is it what is it I have the pistol alberto alberto come luca di marciallo cosa non dico non dico niente non dico niente siamo bravissimi siamo solo 2 a 0 queste macchine comunque il nostro è il metodo per scendere a bronzo in effetti stiamo scendendo basta adesso ecco bravo ci ho provato insomma grazie ma io ce l'avevo la palla ma mi ha spinto mi ha spinto bello è perso tempo ad applaudire e nel frattempo ci stavano per fare gol però vabbè non è vero non è le prove ora vado così ora clip eh sì siamo in live sì che ce l'ho le prove mori stronzo raga dobbiamo impegnarci adesso bene perfetto io non ne posso più di questo busto io no altra partita con le macchine random faremo skip perderemo no 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 io ho cliccato di nuovo però non ho fatto in tempo a vedere cosa ho quindi adesso vedo xxx! ho la break out va bene la break out la sa usare no raga guardatemi dietro guardatemi dietro ho la ferrari con il tamburello sopra ti togli? ma chi leggera no si가 i fiori anche tu quel boost li godo o ma sono messo con delle macchine di più o meno decenti io la uso la ferrari perchè io tengo un sacco di roba apposta per fare le macchine ignoranti basta che quella tua risata mi fai ridere rubatore professionistico non hai detto rotazione di fuoco tornato di fuoco non ho rotazione però aventi c'ho il booster di fuoco quindi lo dice da solo contrasto di fuoco cosa caso di fuoco? passaggio di fuoco nooo perchè mi son girato così talmente male di che fare schifo tu fai schifo tu fai schifo perchè io ho sempre questo colorino lì tu italiano essere molto bello ho questo colorino che fa schifo nooo nooo ti stai fermo Giancarlino Giancarlino nooo e io ho oppure quasi fatto io ho guarda guarda come guarda 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 ma loro sono nel clan xxx da un sito porno ooo ma si ma l'unica l'unica che stiamo vincendo non è competitiva perchè non gli dice che sono in team team perché loro ti prendi erano scelto loro cosa di essere un team di auto ma la mia grazie uno si chiama becca chi qualcosa l'altro cosa hanno scelto loro che sono entrambi in team xx ma 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 dicessi che sono in team blu ma lo sapevo parto alle 40 gg lo sapevo non lo so più io non avere boopost io non avere boopost è calcolato? dove? comunque uno l'abbiamo vinta in 3v3 compilire cioè direi che è un obiettivo che dobbiamo è un obiettivo che dobbiamo festeggiare domani? se stavola festeggiamo? no si si ma porco il tuo ma allora fox che risata è scusa? sembra un bimbo di 5 anni è una risata eh io ho 5 anni infatti ah tu fratello ha 8 anni eh no ma perchè me hai toccata cristiano ah aspetta che mi sta inserendo perchè lui vuole fare golle quindi fai in modo che gli altri non lo facciano scusa tu quante volte mi hai rubato il gol in canestro tu quante volte no tu me ne hai parati ah tu mi fai il basso eh tu mi rubi la palla direttamente eh si ma se non sai giocare è colpa mia si ho imparato dal migliore eh vai sto spingendo tutto si ma se la rimetti in me palo palo ci sono state poche persone lì in mezzo no giusto due perchè non ci sei andato ma cristo una volta che ti scrivo tutta tua ci vai quando ti scrivo mia ci vai anche te ma che no ma con chi stai parlando scusa un po' un fox cautistico è vero ma perchè ho detto tutta tua tutta tua e nella mia testa era mia poi ho realizzato dopo ho detto vabbè dai gg gli hai detto tutta tua perciò doveva andare lui e no lui hai capito tutta mia però quando scrivo tutta tutta non l'hai vista è tutta mia tutta mia lui ci va perchè oh 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 guarda ero soltanto proprio sul muro allora adesso ci impegniamo e facciamo strage fate schifo ho fatto una parata epica con l'hug senza l'hug si chiama l'hug sarà da fastidio venite compagni gioco da voi vengono nella vostra aria ciao amicio il tuo boost mi da fastidio a me la paro sono pronto qui per pararla dai mai c'ho il motore dell'elicottero ahah otto giri dai sono clemente postati si ma non potete spingermi ne basta ora mi arrabbio spingermi mod activate ah god ha 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 ti parata guardalo guardalo allora No, era il mio gol Sei un bastardo Adesso ti uccido Adesso ti uccido No, sei un bastardo Stavo facendo un bel gol Devo andare No, come no Devo andare, ciao No Cosa? Wow, ho sbloccato un progetto Anch'io Vai, che facciamo? Cos'è questa macchina? Da quando esiste? Ah, ma perché ha questa cosa qua E quindi non la riconoscevo Vabbè, se l'ho già fatta Sta macchina Cristi Sai che Allora, provo un attimo In allenamento Perché non mi fido Ok, cazzo Tutta la stessa macchina uscita Ma sai che Con questa colorazione Cioè, è tipo fighissima Hai fatto 2v2, vero? Sì Ok, mamma O forse 4v4 Guarda, vedi? Partita non trovata Partita trovata Tatatatarata Eh, vediamo un po' Dai, siamo contro Ma è alz e dei quadratini Io non ho capito come si fanno i quadratini Ah, ma anche io Ma poi appunto che se vai a vedere dopo il suo profilo su Steam Ti esce il suo nome No, su Rocket, no Mi ricorda Batman Dai, io Non so perché Tornado di fuoco No, vabbè, te l'ho messo e mezzo Bravo Stavo provando tardo Però non mi sono riuscito Anche io lo trovo faccio Ah, devo skipare Non so se hai notato ma abbiamo la stessa macchina Sì, ma non ci assomiglia La colorazione mi confonde Io infatti pensavo di avere una macchina che non avevo Ma dai Grazie, il bel tiro Hai fatto Vinciamo perché non c'è Tizio Ok You're not in this level Eh, non ci sono livelli Sai, nelle casuali Lo vuoi sapere proprio No, si è staccato il joystick Ma no Perché Perché queste cose No, 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 no No, no, no No, no Non vanno bene queste cose Cosa? Hai visto la chat? Hai visto la chat? Giuro, non l'ho scritta io, non ho Davvero? Ah Ho sbagliato Porco, cano E io non ci sono Sai che mi sto trovando con quest'auto più o meno Pensavo fosse tipo il Merck No, è tipo una Dominus Dominus Eh, ma io pensavo fosse come il Merck Pesantissima invece No, è tipo un Xbox Dominus Dovrebbe essere Concibato Ah Ma perché sono stupido Qui c'è da tutti Perché faccio i voli ogni volta che colpisco la palla? Eh, ma vaffan Gesù Grazie Sei morto? No Guarda Vabbè Comunque senza Cristiano Ok Ma basta No, ho recuperato Jump 3 set 2-2, ok Pensavo fossimo Abbiamo parlato di quella persona Adesso stiamo perdendo Eh Colpa sua Spero che non stia guardando la live Eh, vedi, è colpa sua, vedi Ah, non ci sei Ah, sì, ci sei Forse No, è Con zero di boost Sì, c'ero Ah, ok No Cosa ho fatto? Aspetta, aspetta, aspetta No, no, no Scherziamo Madonna Io questa cosa la Mi acceca a me questa roba Ogni volta che la vedo È la bomba nucleare Appunto Abbiamo scelto ancora una volta Io non ce l'ho Io non ho niente di bello Chi c'è prima e fa buone cose Ah, ma di qui c'è prima Ciao No, ma perché? Vai in mezzo Oh Vai in mezzo Non ho preso il boost Ma stai scherzando? Ci sono passato sopra Ma che gioco stupido Cosa c'è? Grazie Cregolo Ah Grazie Vai vai Tira la T In mezzo Guarda in mezzo Io No, non ce l'ho In quale ignoranza Stavo mandando Ma perché non si pari a fare Suo al cuore Invece di spingere Ma vada a spingere Le 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 Quelle Le 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 porte Sì Sì Buongiorno Buongiorno Ma è tutta tua Bravissima Le pro contro noob No Do Do Bravo, bravo Che parata si vuole Lo so Io sono fortissima Come sono No, devo fare un pinch No Si è staccata Bastardissima Bastardissima Levissima Ultra purissima Bruttissima Adesso faccio un bel tiro Un bel tiro Vai in mezzo Vieni Vieni Un po' più forte Un po' più forte Scusa Eh, hai detto Non hai specificato come Vai Questo è mezzo Oh Ma va Vieni Ma va Vieni Invece no Perché paro Madonna Non è che paro Non è che paro Sono concentrato a mille io Così vedi Non ho busto Bello Abbiamo perso Perché io ho misto la palla Sono schifo Guarda 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 che cosa L'italiano è bello Ma vedi cosa faccio Io Gigi Ma io Quasi Quasi Tengo la macchina Vai No Devo cambiarla Io Fido Oh Bella Io Tengo il predefinito No Cos'è sta roba Boh Forse ci sta Non lo so Forse ci sta Ma Ma perché c'ha Un cetriolo Non è quello che mi sa Chiedere Chi è Un cetriolo Is the new Icon Vai Te No Non ci sono Abbandonato Abbandonato No Cetriolo G G G Ma no Che schifo Ho il melmo bianco Le buste Ma è brutto Lezzo Bello 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 Lezzo Oh Gli tira le balle Scout Ma perché C'è la mamma Che è una brava donna Vai È bel passaggio Bravo 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 Ma perché Sono fortissimo Sono fortissimo Sono fortissimo Oh mio dio Sono abbandonato Tutte due Ma che pizza Oh mio dio Ah no Guarda il busto Guarda che bello Guarda No ma scusa ma quanti siamo Speech Eh Non è vero Il contatore se è andato Non ho capito Sì C'è Sono le 4 e 40 Io faccio quello lì che va a mangiare C'è scusa io sono a 19 E lì perché mi segna Cosa mi sta segnando 20 Ah no Sono 20 Che mi segna 19 Allora E li conto 1 2 3 4 Allora 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Per 2 18 Più 19 Sono 19 Perché mi segna 20 Perché mi segna 20 Se sono a 19 Aspettate Voglio vedere se in attesa 20 Forse quando si è scritto Poi si è disscritto A questo punto Penso sia l'unica spiegazione Però se Cioè dovrebbe contarle Quelle cose Se non è fatto male Infatti sono a 19 Allora Sai cosa faccio Faccio Proprietà Vediamo se è aggiornato No Allora faccio termine Poi faccio di nuovo Titolo 100 Follower Importo iniziale 19 Poi ci metto Entro il 12 31 20 20 Ora siamo a posto Anche in attesa Si è aggiornato Si Perfetto Mentre le alertbox Sono a posto Perché intanto ringrazio KTM Ninja Per la sua iscrizione Però io non Non è andata L'alertbox Stavolta Non so perché Quindi aggiungo Un'altra Che magari funziona Meglio rispetto a questa Non lo so Ok Si ringrazio tutti Quelli che sono Spettatori adesso Vediamo cosa esce Vediamo se ne esce Qualcuna di carina Non mi piace molto La Venom Ma sai che Non è neanche male Abbiamo questa E questa qua Questa sinceramente Non è proprio Del tutto Un gran che Per ora La tengo Giusto per Per bellezza Però vabbè Eh no Ancora questa No Vabbè Vabbè dai Usiamo L'Octane Anzi no Facciamo un nuovo predefinito E usiamo la Scarab Che ha delle potenzialità Questa macchina Solo che vanno Bisogna sapere Sfruttare Ho visto anche dei video E c'è gente Che riesce a usarla Molto bene Quindi volevo provare Almeno in allenamento Se riuscivo a fare qualcosa C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra Proviamo così che sono i colori che uso di solito ma sai che non ci sta neanche male usiamo questo dai poi le ruote direi anche queste volendo vediamo se c'è qualcosa tipo le scinche le scinche ci stanno poi direi per il blu c'era per esempio questa non questa ah tra l'altro si alzano le bagagliene questo è figo però non lo uso non ci sta secondo me qua per il blu uso questo per il blu uso questo mentre per il giallo cosa posso usare per il giallo? no no una tempesta di sabbia ah beh si se ne sto in effetti proprio un effetto suo questo cioè fa proprio vedere anche le le ruote che vanno qua non so perché roba usiamo il termico giallo normale dai così cappellino tattico questo ci sta forse ma anche niente o qualcosa tipo l'aureola che non sia troppo che non copra molto così ci starebbe però non lo voglio mettere regola che piange questo no io direi questo comunque il pesce di cobalto è bellissimo però sai che questo ci sta un botto è che è un po' ingombrante forse ma proviamo non lo uso mai questo cos'è che avevo questo poi antenne ce le mettiamo sai che quasi quasi non ce le metto però è solite così e direi giallo così o così no così poi blu così con la normale mettiamo questo dai ok ora rinominiamo scarab si proviamo a utilizzare in allenamento adesso in wall to air dribble no aspettate bene vabbè fa lo stesso ho già che l'ho colpita tanto potrebbe essere un bel passaggio al centro questo dai allora vediamo un po' andiamo a dribblare un po' ok allora mettiamo questo così c'è anche un po' di dribbling il movimento però è stato abbastanza fluido nonostante non servisse granché non fosse chissà cosa però è stato abbastanza fluido allora ma i movimenti in aria vengono strafluidi cioè vengono proprio bellissimo cioè almeno penso stupefacente di solito non ci riesco molto a fare queste cose perché c'è proprio leggera ci mette poco a fare il giro mi sembra non dà troppi problemi se uno vuole fare un po' di freestyle anche se non è molto bravo come nel mio caso è ottimo secondo me allora abbiamo atturbato un po' troppo mi sa anche abbiamo il ceiling? no no stava un po' venendo comunque vi ricordo di lasciare like e di andare nelle info box trovare tutti i miei social allora ve li metto qua però vi ricordo che in questi qua devo ancora modificarli perché ho fatto altro ho editato un video che esce domani e ho fatto anche la copertina che mi sono studiato un po' con Cinema 4D come farla voi vedrete e che c'è ancora Twitch perché lo uso su YouTube questo qua quindi c'è Twitch e non c'è YouTube a parte quello vi ricordo che trovate in descrizione ora sono attivo su quasi tutti i social Discord poi gioco con voi in live quindi mi raccomandate anche lì poi ogni tanto faccio chiaccele everyone everyone si everyone e cosa faccio ci metto tipo siamo in live il video alle 14.30 14.45 dipende siamo in live tutte quelle robe lì su Telegram vi avviso di quello che sto facendo e così è più Telegram è quello dove vi do più informazioni forse però Instagram potrebbe essere quello in cui sono più attivo non lo so forse Telegram ultimamente che Instagram tipo esce un video magari lo dico il giorno stesso così Telegram anche giorni prima dico magari quel giorno lì facciamo la live può darsi che succeda questo sto editando questo sto su Instagram scrivo ogni tanto nelle stories per far vedere che comunque sono attivo e chi mi segue solo lì comunque qualcosa sa che se tipo io non porto un video non porto video live per un po' o un giorno non faccio la live così almeno sa perché non l'ho fatta o che comunque cioè ci sono nel canale non l'ho chiudito di sicuro adesso che stanno con fie vele e dico così perché per quanto riguarda le visualizzazioni l'avevo già detto secondo me all'inizio andava meglio nel senso con questo non si può in che senso voi direte nel senso che quando avevo i miei 30 iscritti 40 ehm faccio tipo Minecraft minigame non mi ricordo e non ce la faccio vabbè e faccio i miei 20 visualizzazioni in poco tempo mentre qua faccio più like attenzione più like ehm ho una community più grande però faccio meno visualizzazioni a livello di tempo secondo me poi magari mi sto sbagliando ma mi sembra di ricordare così la cosa c'è col fatto che c'è più like che c'è più community qua su Twitch mi diverto sempre con voi a giocare mi piace però preferirei un po' più attenzione su YouTube non solo da parte degli iscritti ma in generale lo dico perché io cioè mi sto impegnando molto di più di come mi impegnavo all'inizio all'inizio non potevo fare certe cose anche per per la potenza del computer o così e adesso mi sto impegnando molto noto che c'è un calo a livello di tempo di visualizzazioni questa cosa mi piace molto però amen non pretendo anche perché sta andando comunque bene pian piano smanando ai 100 iscritti quindi vi ringrazio tutti quanti del vostro supporto facciamo un casuale 1v1 vediamo cosa cosa mi dicono se uso la scarab riesco a fare il gol forse meglio con la scarab con la hot perché è leggerina si muove velocemente quando fai i giri e tutto minchia cosa c'è una forma un po' strana che non sempre può essere utile però tipo i pinch mi sembra che li faccia bene ma qua non si riescono a fare i pinch tu 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 faccio gol così mamma mia un nobel ah voglio provare il pinch papapapapa Bello Grazie signore Vada pure, bravissimo Ho sbagliato il 50-50 Però Fa lo stesso O forse no Tanto non siamo in competitive Ok, sono riuscito a salvarla Ci voglio provare GG per me Allora Esco a sbattere pure con Con una pallina per terra quando faccio i Come si chiamano? I dodge Non voglio proprio fare così però Perché va male? Ah mi sa che con Con questa mettere sul muro è più difficile Che si alza Si stacca Molto A meno che non fai così E fai così Bel tiro grazie Anche simpatico Prendiamo qui Goff decente Vabbè non ci ha fatto gol Però Non era proprio decentissimo L'importante è che lui non mi chiascia gol Tanto O non che ce ne freghi molto Però Insomma a vincerla questa partita Non sarebbe neanche male Lol Ok Abbiamo vinto il kickoff Ah Potrò provare a dunkarla in qualche modo però Però troppo in alto Voi dovreste sentire la musica Comunque non so Se la sentite Forse la sentite bassa Però Vabbè Sì, sì, sì. Perchè ogni volta faccio questo errore Non tutte le volte Però mi succede spesso Mi da fastidio Poi tu sei via La palla è lì E tu sei volato via E ti sei giocato un air dribble Poi in 1v1 E' rischioso Faccio del pinch Volevo scrivere per poco Non ben fatto ma va bene Parapara Andiamo al kickoff Ok in un certo senso L'abbiamo vinto noi Ammettiamolo Però mi ha rubato il boost Haha Godo Stiamo qua dal su Ok Sta vincendo Non va bene Vabbè Ritentiamo Tanto non era mica Cioè non era competitiva Parapara Dopo questa poi vado E dopo più tardi Vedrò di editare un altro video Cioè di continuare Di iniziare a editare un altro video Così Forse entro giovedì Ma 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 Ha tutte delle cose sue La scaraba Perché c'è il suo Rumore La ferma Che va Tic Tic Tipo un orlogio Poi Dopo E oltretutto Andava Andava tipo avanti Indietro Ok Sono un po' Stupido Non ho visto Quanti chilometri erano Ma l'ho clippata Quindi Vedrò poi GG man Voglio fare di terzo Ma ero un po' storto Allora poi ho deciso Di cambiare Ok man Trunk Quillini Sono nei pixel Comunque mi raccomando Per tutti quelli che stanno guardando la live Che guarderanno la live In questo punto Non lo so Mi raccomando Le live su Twitch In genere Cerco di farle Cerco di farle Perché ovviamente non so Se riesco sempre a farle Infatti non ho mai avuto Un orario preciso Proprio perché Non ero sicuro Cerco di farle comunque Il lunedì Quindi oggi Il mercoledì E Infine Il venerdì Che sono i giorni Che dovrebbero essere I giorni in cui sono più libero Poi a volte anche il giovedì Sono libero Però preferisco il giovedì Far uscire video Giovedì e martedì Solo che quelli Non sempre riesco a farli In tempo Perché ci sono quei video Da editare Che durano 20 minuti Cioè 20 minuti di registrazione 20-30 E allora ci metti poco E non ti serve Aggiungere chissà che roba Cioè sono semplici Da editare Gli altri video Che invece Ehm Altri video come quelli di Minecraft Che io l'ho editato L'ho finito di editare Questo weekend Che esce domani Uno di Minecraft Però Se dovessi editarlo Per giovedì Non so Farai in tempo Perché Ho anche dell'altro da fare E non sempre c'ho voglia Nel senso che Ci sono dei giorni proprio In cui magari sono stanco E quindi Mettermi lì Non c'ho proprio voglia Degli altri giorni invece Dove Potrei farlo Ma magari non lo faccio Però in genere Cerco di farlo Fatto sta che Ehm E' più difficile Che escano per il giovedì Appunto perché In genere Non è che ce li ho Tutti pronti I video E quindi Specialmente Quelli di Minecraft Magari Se c'ho il weekend Edito durante il weekend Edito Da giovedì in poi Inizio comunque A editare dei video Che poi usciranno Martedì Invece per giovedì Anche se è una data Più lontana Comunque Io nel frattempo Sto editando un video Che esce per martedì Quindi non posso Editare anche quello Per giovedì Di conseguenza Per giovedì Non sempre usciranno Vi volevo avvisare In compenso Potrei fare qualche live Ogni tanto il giovedì Perché Ci sono dei giovedì Dove ho abbastanza tempo Anche se forse è meglio editare E al massimo Far uscire il video Di sabato Per dire Se vedo che c'è uno Già pronto Magari lo faccio uscire Di sabato Di domenica Se invece vedo Che C'è un video Quasi del tutto pronto Mi manca qualcosina Magari lo faccio uscire Martedì Era niente Era solo per avvisarvi Comunque Che schifo Poi c'è Un clicco L'acceleratore E non va avanti No Dai qua Facciamo Bella parata epica Beh almeno L'aveva fatta Una parata epica Ma no Non era proprio Epica E' così Epocale Ah ah Gol aerei Wow Ok Questo qua Secondo me E' di un rank basso Cioè non capisco Se dice ok Per dire del tipo Tutto calcolato GG Così Cioè Per scherzare O se dice ok Perché è stupito Di quello che ho fatto O di quello che ha fatto Lui Cioè ha fatto un errore Incredibile Boh Non lo so Non l'ho visto Non mi ricordo Chi se ne frega Mi lasceresti fare un aerial dribble Male che l'ho ritoccata Senza far andare in porta Dai Please Please Tiè Tanto non fai gol uguale Vedi Eh però pure io Cioè Dai dai Fai un bel tiro adesso Oh Così ti vuole Meglio Dai che voglio provare robe Con la scarab Dai lor pinch Ah lui era rimasto lì fermo Potevo fare robe Vabbè Ah Sono girato male E c'era un blocco mentale Che mi impediva Di girarmi Non so Guardiamoci che siamo Insupplementari E quindi Ci facciamo un togo Perfetto Ho pure 100 di boost Perfetto Però se faccio Sti schifi Faccio degli schifoli Comunque vi consiglio Di provare ad alzarvi Lunedì Pensando fosse domenica Che sia domenica Un po' complicato Io L'ho pensato Secondo me Perché la domenica Spesso Per quanto mi riguarda È un po' noiosa Perché poi Poi dopo c'è lunedì E poi Proprio Non lo so Non è mai Così bella Come invece il sabato Invece questa settimana Per me è stata un po' il contrario Il sabato non è stato brutto Perché comunque Sono riuscito A impegnarmi A editare il video Senza tappi problemi E così Però è stato un po' più noioso Rispetto alla domenica Nel domenica Ho imparato meglio A usare cinema 4D Per le Colpo da biliardo Ah ho colpito lui Perché è andato in gol Sì Perché l'ha toccata finale Grazie Secondo me Non si aspettava Che vincessi Con la Con la mia Con la scaraba Comunque Cosa sto dicendo Ah sì Perché Secondo me Non è stata un'odiosa È stata abbastanza Bella Sfotto non sono stato Anche fuori Che c'era bello Fuori Mi sono divertito E allora Lunedì Cosa succede Mi sveglio Pensando fosse domenica Perché era sabato Per me Cioè Capito Mi sono svegliato Tipo le 6 40 45 Non so Stavo pensando Ho visto l'orologio Un attimo Ce l'ho proiettato Sul muro In alto Io Sul soffitto E Stavo pensando Ok Allora Sto qua un po' Perché comunque È presto 5 minuti 10 Sto qua E poi Poi vado giù Faccio colazione Secondo faccio qualcos'altro Devo editare Il video Lo posso caricare Nel frattempo Metterlo programmato Non lo so Che Tra l'altro Oggi devo caricare Ommeno Devo ricordare Lo faccio dopo E Non rimandare Domani Quelli che puoi fare oggi Vabbè Piccola parentesi Inchiusa E E E poi Cosa succede Che Inizio a pensare Perché mi sembrava strano A un certo punto Per essere sicuro Guardo meglio L'orologio Che sopra C'era il simbolo Della campanellina Che sarebbe la sveglia Capisco che Era lunedì Lì Mi è scesa Proprio la depressione Assoluta Sono Sono Draghiato lì Però comunque Era un po' carico Perché mi ero svegliato Come se fosse domenica Proprio O sabato Meglio Forse Non lo so Me l'ho sviato bene Comunque Allora L'ho carico Poi Poi ho scoperto Che oggi Non c'è molto da fare Di impegnativo Di stancante Così E allora È stata una bella giornata Pur essendo lunedì E niente Volevo dire Questa cosa Comunque È stato Molto Molto bello Stare con voi Sono contento Che una volta Ci sia qualcuno Di nuovo Che voglia giocare Con me E Dove sono I dispori Eccoli qua I social Vi ricordo Che questi sono I social Che trovate Qua sotto In descrizione Non è proprio In la descrizione Però li trovate Ecco E niente Ci vediamo Alla prossima live È stato Molto interessante Tutto Molto interessante Ringrazio tutti Quelli che sono iscritti Nuovi Stiamo a 19 Road to 100 Forse è meglio dire Road to 30 40 50 Potrei mettere 50 Però ho messo 100 Entro la fine Del 2020 Per vedere cosa succede Perché Su youtube Siamo a 90 E considerando Che quasi tutte Le live Che faccio Su twitch Hanno almeno Un follower In più Almeno uno Ce l'hanno Quasi tutte E siamo solo A inizio febbraio Io penso Che potremmo Farcela Ad arrivare Ai 100 Entro Fine 2020 Conto su di voi E saliremo Anche su youtube Mi raccomando Trovate qua sotto Video editati Eccetera Ci metto abbastanza impegno Più negli ultimi Che nei primi Ovviamente I primi Sono piuttosto Imbarrassanti Non guardateli Magari Possiamo cambiare Canzone Grazie No Vabbè Metterò Anche Il punto Scramativo Social Con tutti i link Per chi Magari Da smartphone Non riesce Bene Deve andare Sul canale Può andare Nelle info E magari Non trova tutto Non lo so Comunque Magari Metterò Il comando Con tutti i social In ogni caso Spero che La live Vi sia Piaciuta Ci vediamo La prossima volta Mercoledì Se tutto va bene E Domani Vedrete Un nuovo video Sul canale Queste che sono Nel cabinato Sono Alcune Delle copertine Che ho creato Per i miei video Ovviamente In formato 4 terzi Alcune sono più vecchie Alcune nuove Ogni tanto Al giorno Ogni tanto Tipo l'altra volta Ho aggiornato Poi basta E Niente Spero che vi sia piaciuta La live Adios Alla prossima Alla prossima Alla prossima